Parlare ai bambini di lavoro come diritto inviolabile, a fondamento della Repubblica Italiana, come recita la Carta Costituzionale, senza angosciare il loro universo fatto di innocente leggerezza. Operazione possibile inoltrandosi nei sentieri immaginali della fiaba, da sempre efficace strumento pedagogico, indirizzato ai piccoli, ma utile come insegna e sopo, anche per i più grandi. E' così che dalla storia del grande ulivo di Godland, della scrittrice barlettana Maria Antonietta Binetti, per i tipi dell'editrice Rotas, ne è nato un concorso nazionale dall'omonimo nome, giunto quest'anno alla seconda edizione. Premiati ieri sera a Barletta nella Sala Rossa del Castello, i primi classificati nelle due categorie in concorso, per la sezione grafica Diana Calefato della Scuola Media Superiore Rocca di Trani, il cui elaborato è divenuto la colorata copertina del signorino di Dreaming Hills, ultima fatica letteraria della prolifica scrittrice barlettana. Per la sezione scrittura la spuntata invece Valentina Lastella della Scuola Media Superiore Garibaldi di Trinitapoli. Il suo scritto, già pubblicato tra le pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, troverà posto anche nel Gazzettino Illustrato di Venezia, nel Fiera Mosca e nel periodico In Comunione. Storia comune, oggigiorno quella narrata nelle pagine del signorino di Dreaming Hills, di chi perde il lavoro, ma nonostante le difficoltà, non perde la speranza nel futuro. Duplice funzione, quindi quella affidata alla scrittura fiabesca, abituare i ragazzi sin da piccoli alla consuetudine della lettura e tramite i canali della comunicazione, diversi a seconda dell'età, portarli a contatto con le realtà, nutriendo però la loro anima di propositi, progetti e slancio ottimistico verso il futuro. Percorso delineato dalla Binetti con la sua collana di fiabe, dalla radice al cielo, inaugurata dal grande ulivo di Godland e proseguita con le Olimpiadi del Cuore, giunta ora alle vicende del signorino di Dreaming Hills. Storie che pescano nel vissuto, dell'autrice, nella realtà che circonda i piccoli lettori della sua collana, spesso a tinte fosche, diverse e distanti da quel mondo a colori, a cui le fiabe nonostante tutto invitano a credere.